Mario Passaro, i camici bianchi dell'Ordine dei Medici di Salerno sono pronti ad indossare pantaloncino, scarpette e maglietta per partecipare a Viareggio alla Coppa Italia? Sì, proprio così dal 19 al 22 settembre saremo a Viareggio per la Coppa Italia Medici 2024 che è una competizione che è ogni anno e noi ci teniamo molto a partecipare perché è un'occasione per confrontarci con tante altre squadre anche molto più storiche di noi che hanno tanta esperienza e che però sono sicuramente un modo per testare anche la nostra preparazione visto che ormai andiamo avanti da almeno tre anni con il nostro progetto e che ci sta effettivamente dando belle soddisfazioni. L'obiettivo ovviamente è quello di portare a casa un bel risultato? Assolutamente sì, ci proviamo perché ci sono tantissimi giovani che hanno deciso appunto di partecipare al progetto, sono stati coinvolti anche tantissimi colleghi che sono non soltanto a Salerno ma anche fanno parte dell'Ordine ma sono in varie parti d'Italia per le scuole di specializzazione quindi siamo contenti che anche da lì hanno deciso di venire e partecipare qualche giorno perché comunque ecco al di là dell'aspetto sportivo è anche un modo per stare insieme ecco per condividere proprio l'aspetto dell'esperienza fuori e del appunto metterci diciamo a confronto con tutte queste altre realtà nazionali. Quella dei prossimi giorni non è la prima esperienza ovviamente per la squadra dell'Ordine dei Medici di Salerno? No, c'è stata una a Camerota che abbiamo fatto due anni fa, siamo andati a Roma, siamo andati anche a Palermo l'anno scorso, ecco questa quindi è già la quarta trasferta e questo è sicuramente l'aspetto un po' più sportivo perché poi diciamo durante l'anno ci dedichiamo anche a altre attività, abbiamo partecipato ultimamente a quella che è diciamo l'attività di beneficenza contro l'Ordine dei Commercialisti, è prevista poi un'altra manifestazione che vogliamo fare diciamo a Natale con altri ordini perché poi ecco l'obiettivo è anche confrontarci con le altre realtà territoriali e poi eventualmente anche poi insieme sempre all'Ordine che io ringrazio perché ci ha sempre patrocinato fin dall'inizio delle nostre attività nel 2020 faremo sicuramente anche delle attività di beneficenza appunto con magari visite di prevenzione anche in provincia perché poi l'obiettivo è coinvolgere anche tutti quanti i colleghi della provincia.